Quattro giornate alla conclusione ed è, quindi, quasi tempo di sentenze. Ed in tal senso, lo snodo odierno tiene attaccati ai cellulari sportivi di mezza regione. A Chiedi, Alba Adriatica, Spoltore, più di un occhio è puntato verso Capistrello, dove la Torrese parte forte e si propone già il nono con Dorazio, laterale di grande sostanza. Ma l'ottimo Mario Di Girolamo si persuade a smanacciare per evitare spiacevoli qui pro quo. La Torrese dei primi venti minuti è molto propositiva e al quindicesimo addirittura un difensore nardone si presenta al cospetto dell'estremo di casa, che si supera e salva la propria porta. Con l'andar dei minuti, però, il Capistrello prende le misure all'undici ospite, in primis con il Capitano Edoardo De Meis, artefice di una prestazione di spessore che parte con una bordata dalla distanza, al ventesimo, che Bruno respinge con i guantoni. Appena 60 secondi, però, è su capovolgimento di fronte, Chiacchiarelli, pennella per Torbidone, che svetta e chiama di Girolamo all'impegnativa risposta. Partita di livello, equilibrata e aperta ad ogni soluzione. Al ventisettesimo, per esempio, è Pollino a provare l'imbeccata per guerra, fermato da Bruno che respinge. Al trentesimo è di nuovo Torrese con Chiacchiarelli che spizza di testa di poco a lato e poi abbandona il campo per un infortunio. La Torrese sembra risentirne, il Capistrello accelera, ed Edo De Meis pesca Antonio Franchi al tiro sporco che lambisce il palo. Trentaseiesimo, ospiti pericolosissimi con Maio che suggerisce per Torbidone alla spaccata che costringe di Girolamo agli straordinari. Capistrello salvo e Torrese che ci riprova due minuti più tardi con Stacchiotti che su angolo di Petronio non trova la porta di testa. Chiusura di tempo in salsa granata con una cross di guerra che si trasforma in un rigore in movimento per Edoardo De Meis che cicca l'impatto e il collo decolla. Ripresa ad alto tasso di pericolosità quando Stacchiotti impatta bene ma ricade male. Palla a lato e infortunio superato in pochi frangenti. Si riprende e il Capistrello spacca il match con Pollino che è freddo nella conclusione a centro area. Partita indirizzata e la Torrese scompare. Difatti l'azione seguente è ancora targata Capistrello. 34esimo punizione con considerevole botta finale di Aquino ma Bruno è plastico nella risposta. Poi al 39esimo Edoardo De Meis blinda i tre punti con un'altra abbordata che l'estremo ospite può solo toccare. 2-0 e chiusura angosciante perché Di Francesco Antonio lascia il campo in ambulanza. Un in bocca al lupo a lui e i complimenti sono invece tutti per i ragazzi di Iodice. Fabio Iodice c'è grande soddisfazione per questa vittoria. Sì, abbiamo fatto una grande gara contro una grossa squadra. È stata una partita aperta. Però poi credo che alla fine se andiamo ad analizzare la partita credo che abbiamo meritato la vittoria. Però faccio i conviventi ai ragazzi perché l'abbiamo interpretata in modo giusto. Sapevamo che era difficile però l'abbiamo affrontata con l'atteggiamento giusto. Mister Cristofani una brutta sconfitta se pensiamo al primo posto. Sì, diciamo una brutta sconfitta in generale perché comunque i miei ragazzi oggi credo che abbiano offerto una grande gara. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo. Anche il Capistrello ha dimostrato di valere la classifica che ha. È stata una partita aperta a qualsiasi risultato. Primo tempo secondo me abbiamo fatto molto bene. Probabilmente è stato il miglior primo tempo della stagione. Abbiamo creato diversi pericoli al Capistrello. Non siamo riusciti a sbloccare la gara. Secondo tempo un episodio ha indirizzato la gara verso di loro. Sono stati bravi a portare a casa il risultato fino alla fine. Quindi nulla da dire ma da martedì insomma al lavoro per proseguire.